Un'altra trasferta insidiosa per Envasso Girardi, chiamato ad un autentico Tour de Force dopo questa domenica per recuperare le gare saltate per il Covid-19. Il Girone F di Serie D si fermerà infatti sino all'8 maggio e gli Altomolisani saranno gli unici a scendere in campo il 27 aprile e poi il primo del 4 maggio rispettivamente contro Pineto, Montegiorgio e Recanatese, con primo ed ultimo match in programma al Di Tella. Dalla loro i giallocelesti di Prosperi saranno chiamati invece nella circostanza ad un altro esame di non poco conto, come quello in casa della terza della classe Trastevere. La formazione altomolisana è reduce dallo stop di San Benedetto del Tronto, contro una sanbenedettese che ha capitalizzato al meglio la più ghiotta occasione avuta con Full, a fronte di una gara nel complesso ben disputata dal team del presidente di Lucente. Ora, contro i Capitolini, il Vasto Girardi sa di affrontare quella che, numeri alla mano, è la migliore formazione per rendimento interno nel Girone F di Serie D, 32 punti ottenuti in 14 gare disputate tra le Muramiche, a fronte di un cammino esterno che, per la truppa dei Prosperi, non ha la stessa saldezza del rendimento interno. Solo 12 dei 39 punti arrivati sinora sono stati conquistati fuori dal Molise. Con calcio di inizio domani pomeriggio alle ore 15, in contemporanea con gli altri otto confronti del trentesimo turno, Trastevere e Vasto Girardi sarà diretta da una terna composta dal fischietto anconetano Enrico Eremitaggio, con assistenti il Nolano Dario Maione ed il Cesenate Diego Spatrisano. Grazie a tutti.